Quante criptovalute esistono in questo specifico momento? Se andiamo su CoinJack oppure su CoinMarketCap possiamo leggere che sono listati circa 9.400 token. Quindi possiamo dire che esistono arrotondando più o meno 10.000 criptovalute differenti? Assolutamente no, infatti quelle che vedete su CoinJack o su CoinMarketCap sono proprio quelle che sono listate su questi siti, ma ne esistono un'infinità in più che non sono nemmeno censite. E come mai non sono censite? Beh, perché creare una criptovaluta, in realtà creare un token all'interno di una blockchain è una delle cose più semplici che si possano fare. In realtà non solo è semplice, però a seconda anche delle blockchain, chi più chi meno, è anche molto molto economico. Infatti proprio in questo contenuto vedremo come creare un nuovo token, come distribuirlo e per chi rimane fino alla fine ci sarà anche un piccolo bonus, un piccolo regalo. Prima di iniziare come sempre ti chiedo di mettere un bel like a questo contenuto, di iscriverti qui sotto al canale YouTube, di spuntare la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video. E se ti interessa il mondo cripto, vieni all'interno del mio canale Telegram per ricevere informazioni e aggiornamenti costanti giorno per giorno proprio in ambito cripto. Prima di fare qualsiasi cosa è necessario scegliere su quale chain vogliamo lavorare. Anzi, ancora prima dovremmo scegliere se vogliamo creare un token oppure una moneta, una coin. Ora, una moneta presuppone di creare anche una chain ex novo. Quindi lasciamo perdere questa ipotesi e concentriamoci, scegliamo di creare un token che si appoggia su una chain preesistente. Per il lancio del mio token lavoreremo tramite la Binance Chain perché è una delle chain più economiche sia per creare, per emettere il token, sia successivamente per fare aggiustamenti in corso d'opera. Ok, a questo punto è giusto un appunto di natura informativa. Proprio a causa della grande economicità della Binance Chain, spesso la Binance Chain è utilizzata proprio per fare scam, per fare truffe, per emettere token fittizi che poi appunto saranno usati in progetti falsi, in progetti che non esistono, in progetti che fanno rag pull e compagnia. Quindi super attenti, o meglio, super attenti sempre ad ogni token, ad ogni chain, ad ogni cosa che si muove su blockchain. Però per quanto riguarda la BNB Chain, insomma, un gocciolino di attenzione in più, un occhio in più, perché effettivamente c'è un gran numero di progetti che si muove su Binance Chain e di cui bisogna stare estremamente attenti. Bene, a questo punto abbiamo scelto la chain, adesso dobbiamo definire quali sono i parametri del nostro token. Per esempio, quante unità di token saranno create, qual è il nome del token, banalmente, qual è il ticker del token, saranno creati tutti i token al TGE, cioè al Token Generation Event, quindi al momento 0 diciamo, oppure saranno creati nel corso del tempo, ci sarà un vesting, a che cosa serve il token, ok? Tutti questi parametri, questi dati, di queste descrizioni sono fondamentali, però tutto questo sarebbe per un progetto reale che ha bisogno di avere tutti questi parametri. Noi in questo caso stiamo facendo un test, quindi per quanto riguarda questo progetto ci limiteremo a impostare la quantità, il nome e chiaramente il ticker del nostro token. A questo punto facciamo un breve passaggio su CoinGecko, perché vorrei prendere un nome e un ticker che non esistono. Per il nome sono piuttosto tranquillo, fra un attimo ve lo dico. Per quanto riguarda il ticker, invece, non so. Quindi andiamo un attimo su CoinGecko, andiamo a vedere se esiste il token BER. Ora, BER, non mi sembra di vedere, cioè Barry, Barry, Bern, Barry, Bera, PQ, Bert e cose del genere, ma non mi sembra di vedere un token che si chiama BER. Andiamolo a cercare così proprio BER. BER, non mi sembra che sia trovato nulla. No, vedete, il primo che trova è Barry. Quindi a questo punto sono contento, perché vuol dire che, insomma, il ticker BER non è utilizzato. Ora capirete la grande originalità del token che voglio creare del ticker. Il nome sarà BERCOIN. Attenzione, si chiama BERCOIN, ma non è una coin, cioè si chiama BERCOIN, ma è un token. Quindi BERCOIN è come se fosse il nome sul mercato, il brand. Di fatto BERCOIN è un token. Poi, insomma, come se una persona si chiama Pino, non vuol dire che sia per forza un albero. Ok? È un pessimo esempio. Sono io stesso allibito dal paragone, però in qualche modo funziona. Torniamo a noi. Allora, BERCOIN sarà il nome commerciale, il nome sul mercato. Il ticker sarà BER, il nome che lo contraddistingue in maniera breve. E la distribuzione iniziale sarà di un milione di pezzi, un milione di token, che saranno generati tutti al momento zero. Quindi nel momento in cui genererò i token, e lo faremo insieme chiaramente, in quel momento ci saranno un milione di pezzi. Bene, a questo punto abbiamo tutti i parametri per procedere alla creazione del BERCOIN, del nostro token. Ora dobbiamo creare lo smart contract che gestirà effettivamente questo token. Bene, a questo punto apriamo Remix, che è una delle piattaforme più famose per quanto riguarda la generazione e la creazione di smart contract. Ora, come potete vedere dall'indirizzo, Remix è nato per Ethereum, quindi è remix.ethereum.org. Però, alla fine, la Binance Chain è EVM compatibile, dunque gli stessi contratti generati per Ethereum, in un batter d'occhio si possono abilitare, si possono adeguare anche alla Binance Smart Chain. A questo punto qualcuno potrebbe sentirsi smarrito, potrebbe essere in difficoltà, potrebbe dire, ma come cavolo lo crea uno smart contract? Non so programmare, non so di che cosa stiamo parlando, non doveva essere una roba easy quella che dobbiamo fare, che non costa nulla, tra l'altro. Infatti, attenzione amici, è tutto super easy. Noi andremo a utilizzare uno smart contract già precostruito con alcune funzioni standard. Quindi, in qualche modo possiamo considerarlo, come dire, la base della torta su cui si potrebbero costruire tantissime cose, si potrebbe mettere di tutto, ma noi alla fine, nel nostro caso, ci limiteremo a prendere la base e a modificarla poco poco poco. Quindi, prenderemo qualcosa che già esiste, lo modificheremo appena, giusto per metterci, appunto, i dati, i parametri che caratterizzano il nostro token, quello che stiamo creando, dopodiché useremo tutto quello che già esiste ed è già stato creato, già scritto con lo smart contract standard. Bene, a questo punto iniziamo la procedura per creare lo smart contract che gestirà il nostro token. Bene, andiamo qui all'interno di Remix, facciamo zoom qui sulla parte, e vediamo che dobbiamo selezionare contracts, apriamo e facciamo new file. A questo punto dobbiamo dare un 9 al nostro nuovo file, quindi lo chiameremo bearcoin, ok? Una volta che è stato salvato, vedete che si chiama bearcoin.sol e come vedete è già stato aperto qui di lato all'interno di una sezione, di una tab di Remix. A questo punto, prima di procedere alla creazione vera e propria dello smart contract, andiamo qui di lato nell'icona che è fatta in questo modo e andiamo ad assicurarci che il linguaggio di programmazione che stiamo utilizzando è Solidity, che è esattamente quel linguaggio di programmazione che viene usato per tutti gli smart contract di Ethereum. Quindi andiamo in Advanced Configuration e vediamo che il nostro linguaggio sia effettivamente Solidity. Quindi effettivamente vedete che in questo caso è il linguaggio base, però non si sa mai, facciamo comunque questo check per essere sicuri che sia tutto a posto, che le impostazioni e le configurazioni di Remix siano quelle giuste. Bene, a questo punto torniamo indietro, andiamo sempre dentro bearcoin.sol, che è qui vuoto, a questo punto dobbiamo riempirlo con lo smart contract generico base. Per farlo andiamo all'interno di questa pagina, chiaramente il link te lo lascio qui sotto in descrizione. Questo è il BSC Genesis Contract, quindi diciamo, come vi dicevo, la base sulla quale si può costruire tutto il resto. A questo punto noi andiamo a copiarcelo, qui potete vedere tutto lo smart contract, noi banalmente facciamo copia tramite questo tasto qua di lato, andiamo dentro Remix, facciamo incolla ed ecco che il nostro smart contract base è stato copiato. Ok, a questo punto dobbiamo andare a personalizzare il nostro smart contract. Per farlo dobbiamo scendere, andiamo a trovare questa parte qui specifica, ok, alla riga 351 per essere precisi, ma insomma basta scendere. E come vedete c'è name, symbol, decimals, total supply, balances, ok? A questo punto noi andiamo a cancellare quello che c'è, per esempio invece di token name, mettiamo chiaramente, aprendo le virgolette, bearcoin. Ok, al posto di symbol andiamo a mettere ber, ok? Al posto di decimals dobbiamo mettere 18, infatti i decimali che vogliamo per il nostro token sono 18. A questo punto poi dobbiamo mettere la total supply. Attenzione però, perché la total supply ha bisogno di, noi abbiamo deciso che era un milione, ma non dobbiamo mettere solamente un milione, quindi sostanzialmente questo numero qua. Dobbiamo mettere un milione seguito poi dai 18 decimali, infatti all'interno dello smart contract viene contato il numero comprensivo di tutti i decimali, quindi siccome abbiamo detto che sono 18 decimali dobbiamo mettere un milione, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo è un milione, dopodiché dobbiamo metterci dietro altri 18 zeri, quindi banalmente ho copiato questi 6 zeri, sono 1, 2, 3 e a questo punto siamo sicuri che questo numero sono un milione, scritto 1, 0, 0, 0, 0, 0, più altri 18 zeri dietro che saranno appunto i decimali. Come vedete non è che ci sia voluto tanto per personalizzare il nostro smart contract, vi dirò di più, abbiamo già finito di personalizzarlo, cioè tutto quello che dovevamo fare per arrivare a renderlo diverso da qualche altro smart contract l'abbiamo già fatto banalmente, ok? Quindi a questo punto questo è il nostro smart contract, quello che dobbiamo fare ora è andare a deployarlo e andare a generare effettivamente i nostri token. Quello che dobbiamo fare adesso è andare su questo pulsante laterale, clicchiamo qui, andiamo a vedere che auto compile sia selezionato, poi scendiamo un po' e andiamo a vedere che enable optimization sia selezionato con 200 e quello che dobbiamo fare adesso è banalmente cliccare compile bearcoin.sol. Bene, una volta compilato andiamo qui sotto e andiamo a cliccare abbi, questo copia abbi. Clicchiamo qui, torniamo indietro e andiamo in quest'altro pulsante, ok? Clicchiamo questo pulsante e attenzione perché amici siamo veramente a un passo da emettere effettivamente i nostri token sulla blockchain. Bene, a questo punto concentriamoci su environment qua in alto e andiamo a scegliere injected provider metamask. A questo punto vedete che si apre metamask effettivamente. Attenzione amici perché in questo momento stiamo andando a scegliere, stiamo andando a definire qual è l'address che potrà interagire direttamente con lo smart contract e lo smart contract è appunto quel contratto che va a generare i token bearcoin. Quindi sostanzialmente tramite l'address che andiamo a scegliere ora andremo poi a poter fare qualsiasi cosa con lo smart contract e quindi con i nostri token generati. Quindi è molto molto importante. Non solo bisogna avere per completare questa operazione bisogna avere anche dei BNB all'interno del portafoglio proprio perché bisogna andare a fare una transazione, bisogna andare a firmare una transazione on-chain. In questo caso vedete che l'unico address che io posso utilizzare chiaramente è questo qua, Ledger2, con sopra dei BNB. Quindi faccio avanti, a questo punto faccio connetti, a questo punto attendiamo, come vedete effettivamente è tutto andato a buon fine, evidentemente do per scontato che se avete il vostro ledger, diciamo se è un account con ledger come me, chiaramente il ledger è collegato e il pin è messo dentro. Insomma che tutto sia funzionante, se non sai di che cosa sto parlando, ti lascio un video per quanto riguarda leggere, un video per quanto riguarda Metamask, così ti lascio qua in alto, così hai un pochino di informazioni in più per capire meglio che cosa stiamo facendo. A questo punto possiamo procedere. Verifichiamo effettivamente che stiamo compilando il contratto giusto, vedete che ci sono un po' di contratti, noi mettiamo BEP20tokencontractsbercoin.sol e a questo punto clicchiamo deploy. Come vedete a questo punto effettivamente ci viene chiesto di fare la transazione on-chain. Noi andiamo a confermare, ora in questo momento dovrò confermare anche sul ledger proprio perché si tratta di una sicurezza in più, ossia sto passando tutto tramite il ledger e a questo punto creation of BEP20tokenpending. Bene, come vedete a questo punto, vedete da qua sotto, effettivamente nel blocco tal dei tali la creazione del BEP20token è andata a buon fine. Lo so che sembra assurdo però potenzialmente noi in questo momento potremmo già chiudere tutto quanto perché effettivamente Bercoin già esiste ed è già stato mintato in un milione di esemplari, un milione di token. Se noi andiamo a prendere il nostro contratto appena creato e andiamo a metterlo qui sulla BSC Scan, vedete che ci dice che 4 minuti fa effettivamente c'è stato un evento di contract creation. Se noi andiamo all'interno dell'Hash, vedete che effettivamente un milione di Bercoin sono stati creati. Quindi tutto questo già esiste, se andiamo all'interno di Metamask, potete vedere che oltre i BNB, oltre i BUSD, io ora ho anche un milione di B e R. Ok, quindi il milione di Ber, di Bercoin che sono stati creati sono attualmente posseduti dal mio address. A questo punto perché non finisce il video qui se abbiamo già detto tutto, se abbiamo già creato il nostro token? Beh, perché in realtà c'è ancora un altro passaggio molto importante. Infatti, se noi andiamo all'interno dell'Hash, vediamo che qui c'è il contratto che abbiamo appena creato, il contratto che gestisce chiaramente tutti i Bercoin. A questo punto possiamo andare all'interno di contract e come vedete ci chiede se sei tu il creatore di questo contratto, verifica e pubblica il tuo contratto, il codice esorgente del tuo contratto, adesso, oggi. Ok? Che cosa vuol dire questa frase, questa proposta che ci viene fatta? Sostanzialmente noi abbiamo tecnicamente creato uno smart contract e poi questo smart contract ha emesso dei token e di quei token siamo proprietari, possiamo fare cosa vogliamo, ma in questo momento lo smart contract che gestisce i token non è pubblico. Questo cosa vuol dire? Che effettivamente io potrei distribuire i token, potrei iniziare a metterli in commercio e compagnia, però nessuno sa come funziona lo smart contract dietro perché non è pubblico. Ok? A questo punto che cosa mi viene detto? Mi viene detto di pubblicare il codice esorgente dello smart contract in maniera tale che tutti quanti possano sapere quali sono le funzioni dello smart contract che ho creato e quindi che possano sapere a che gioco stiamo giocando, con che regole stiamo giocando, perché mettete che all'interno dello smart contract ci sia una regola, cioè smart contract che ho fatto io, c'è una regola che dice che io posso fare esattamente cosa voglio con quello smart contract, anzi con tutti i token all'interno dello smart contract, capite che è un problema perché magari le persone si fidano di me, inizio a vendere il mio token e tutto quanto, a un certo punto decido che tutti i token che sono a giro possono e devono rientrare all'interno del portafoglio base, del portafoglio dell'address con cui ho creato tutto quanto, capite che questa è una regola che se non pubblico il codice esorgente dello smart contract chiaramente nessuno può sapere, questa è la cosa più semplice che mi viene in mente, ma insomma le di regole farlock, di regole particolari ce ne potrebbero essere tantissime, quindi per fare tutto a regola d'arte noi clicchiamo verify and publish e a questo punto come vedete siamo all'interno della pagina dove possiamo effettivamente andare a commettare il codice esorgente dello smart contract che abbiamo creato e quindi possiamo andare a renderlo pubblico, il BSC scan andrà a fare un match fra i token che sono stati creati, lo smart contract che è stato creato da una parte e quello che gli abbiamo consegnato verifica che le informazioni con pagina che siano le stesse, che si parli chiaramente dello stesso smart contract e alla fine darà il suo nulla osta ma soprattutto pubblicherà il codice sorgente del contratto che tutti potranno vedere, quindi chiunque potrà vedere che cosa può fare quello smart contract, quindi che cosa faranno i token, quali sono le possibilità dei token all'interno generati all'interno di questo smart contract. A questo punto andiamo a compilare i vari campi, andiamo nel primo campo, dobbiamo mettere solidity single file e a questo punto ci viene richiesto di dire qual è la versione del compiler che abbiamo utilizzato. Ora, qual è la versione che abbiamo utilizzato? In realtà è molto semplice, andiamo all'interno di remix qua indietro, andiamo all'interno di questa sezione, ok? E come vedete qua in altro è il compiler che abbiamo utilizzato, quindi 0.5.16 più commit.9c3226ce. Bene, chiaramente andiamo dall'altra parte e andiamo a trovare esattamente questo compiler, quindi 0.5.16 più commit.9c3226ce. Esattamente questo qua, quindi andiamo a selezionarlo e a questo punto qua sotto poi andiamo a mettere il tipo di licenza. In questo caso noi rilasciamo il nostro smart contract con questo tipo di licenza, license v2, gnu gpl v2, ok? Quindi andiamo qui e a questo punto noi possiamo fare continui. Bene, a questo punto dobbiamo andare a mettere il nostro smart contract all'interno di questo campo. Per farlo andiamo nuovamente in remix, andiamo all'interno dei file e qui andiamo a selezionare bearcoin.sol e clicchiamo flatten. Come vedete viene chiesto il permesso di fare questa operazione, flattare, fare il flatten di un contratto sostanzialmente significa prendere tutto il contratto con tutte le varie appendici che potrebbero rifarsi a librerie, a cose esterne e metterlo in un unico blocco, perché quello che dobbiamo passare alla bscscan, cioè alla piattaforma, è un unico file che non può rifarsi a file terzi, a file esterni. Quindi abbiamo bisogno sostanzialmente di un unico documento con dentro tutto quello che riguarda lo smart contract. Chiaramente noi accettiamo e a questo punto andiamo a prendere il contratto cosiddetto flattato, ossia effettivamente con tutte le parti che servono per essere rilasciato all'interno del campo dove dobbiamo metterlo. A questo punto se guardate qua sotto è apparso bearcoin underscore flat punto sol, quindi andiamo ad aprirlo e andiamo effettivamente a copiarlo tutto quanto, quindi andiamo a selezionare dalla prima all'ultima riga e lo riportiamo all'interno del nostro campo. Eccolo qui, questo è lo smart contract che effettivamente vogliamo rilasciare. L'ultima cosa che ci rimane da fare è andare qua in cima adesso, scrivere e mettere optimization yes e a questo punto diciamo che non siamo dei robot, verify and publish. Quindi clicchiamo questo pulsante e effettivamente in qualche istante il nostro contratto sarà verificato e rilasciato e quindi pubblicato su BSC Scan. Eccoci qua, come vedete successfully generated bytecode and ab for contract address, ok? E questo è chiaramente il nostro contract address. A questo punto il documento, lo smart contract è completamente pubblico, consultabile da tutti e quindi in questo modo possiamo dire che il nostro smart contract è completamente trasparente, tutte le funzioni sono pubbliche, chiunque interagisce con questo smart contract sa che cosa può fare il token, che cosa non può fare, a che cosa serve, come può interagire con lo smart contract. A questo punto possiamo cliccare nuovamente sul nostro smart contract. Eccolo qui, vedete che siamo nuovamente all'interno della BSC Scan, all'interno della pagina del nostro smart contract, bear coin è sempre qua, tutto è sempre qua, ma adesso contract, come vedete, su contract è venuta una spunta verde perché vuol dire che il nostro contratto effettivamente è verificato, ok? A questo punto tutto quanto a livello di transazione è rimasto assolutamente identico, ok? Il nostro contratto è firmato, come vedete qua in alto sono comparsi tre pulsanti. In particolare, come vedete, possiamo andare a cliccare write contract e possiamo andare a connetterci al 2Web3, cioè al nostro portafoglio di Metamask. A questo punto clicchiamo, clicchiamo, come vedete siamo connessi col nostro portafoglio di Metamask, chiaramente siamo connessi col portafoglio che ha generato lo smart contract, quindi che può interagire direttamente con lo smart contract. In questo caso è esattamente il portafoglio, questo qua, che io chiamo Ledger2, che ha creato effettivamente, con cui abbiamo fatto tutto quanto, con cui abbiamo pagato la nostra commissione in BNB e con cui effettivamente in questo momento abbiamo la proprietà di tutti i B e R. Ora, come vedete qua sotto ci sono una serie di nuove funzioni differenti. Vedete, c'è Approve, Decrease Allowance, Increase Allowance, Mint, Renounce Ownership, Transfer Transfer From oppure Transfer Ownership. Ok? Ora, non stiamo a indagare esattamente a che cosa servono tutte queste funzioni, però sono tutte quante interessanti e attenzione, sono tutte quante descritte all'interno dello smart contract. Se io avessi voluto eliminare qualcuna di queste funzioni, chiaramente avrei potuto prendere lo smart contract base che ho copiato da GitHub, avrei potuto modificarlo, chiaramente sapendolo fare, e avrei potuto eliminare una di queste funzioni. Non è detto che ci siano tutte quante o potenzialmente potrebbero essercene molte di più. Una cosa che mi invito a fare sempre è quando interagite con uno smart contract andare a vedere all'interno dell'explorer di riferimento quali sono le funzioni che ha un determinato smart contract. Ok? In questo caso, per esempio, giusto per dire, Transfer Ownership serve a, vedete, il new owner, quindi io posso dare un nuovo indirizzo e posso chiaramente, devo andare a scrivere una transazione on-chain. A questo punto, una volta che io avessi creato un nuovo ownership, quindi avessi trasferito la ownership di questo smart contract, chiaramente chi può interagire con questo smart contract, quindi effettivamente chi può avere accesso a queste funzioni può utilizzarle, non sarebbe più il mio indirizzo, quello con cui ho creato tutto, ma sarebbe il nuovo indirizzo. Quindi praticamente, in maniera molto semplice, ho trasferito la proprietà a qualcun altro, a un altro addresso. Ok? Come capite, insomma, ci sono tutte queste funzioni che è possibile utilizzare e, dall'altra parte, se è possibile utilizzarle e è chiaro che bisogna essere molto attenti, molto consapevoli di a che cosa servono proprio per evitare dal lato utente di essere in qualche modo fregati. Bene, a chi è arrivato fin qui, innanzitutto voglio dire grazie e, seconda cosa, voglio farvi un regalo. Si tratta di un airdrop, o se voglio dare una parte dei token che ho appena creato a chi li richiede. Quindi una parte del milione di token voglio darli a chi li richiede, quindi a chi farà questa richiesta, per cui non ci vuole assolutamente nulla, veramente molto semplice e ve lo dico fra un attimo cosa bisogna fare. Attenzione, i token e bearcoin che ho creato non valgono assolutamente nulla, però credo che sia interessante come esperimento. Serve a mostrare quanto è semplice creare un token, e questo l'abbiamo già fatto, ma anche a distribuirlo. Poi, vabbè, per ora non valgono nulla, però non si sa che magari in futuro diventate milionari col bearcoin. No, scherzo. Assolutamente no, ragazzi. Non c'è minimamente questo problema, anche perché io li distribuirò e per ora non hanno nemmeno una pool di liquidità, quindi proprio non possono valere niente, a meno che uno non decida che poi se li scambia in maniera così, in maniera privata, però non c'è un mercato su cui poterli scambiare. Poi, magari prossimamente potremmo fare anche una pool di liquidità per creare un vero e proprio sistema di scambio, una vera e propria pool di scambio, per capire ancora meglio poi come si dà valore a un token che sia scam o che sia reale, ok? Però questo magari lo vediamo in un prossimo contenuto. Quindi, per ora fermiamoci solamente alla distribuzione e poi di dare valore a questo token, semmai sempre ai fini didattici ci penseremo successivamente. Per ricevere bearcoin gratuitamente, attenzione, non costano assolutamente nulla, devi iscriverti a Cryptolab, di cui ti lascio il link qui sotto, Cryptolab è il laboratorio per diventare esperto nel mondo cripto. È un gruppo Facebook nel quale affrontiamo vari temi relativi alle criptovalute, relativi alle sicurezze delle cripto, come tenerle al meglio, come fare in modo che non vengano perse anche nel lungo termine, come effettivamente interagiscono le blockchain e tutti i temi di questo tipo. All'interno di Cryptolab trovi banalmente un form da compilare con il quale riceverai poi l'airdrop. Quindi mi raccomando, molto semplice, iscriviti tramite il link a Cryptolab, fai l'accesso, a quel punto compili il form e tranquillamente ti arriverà l'airdrop nel giro di qualche tempo. Ok, con qualche tempo intendo qualche giorno, non è che stiamo parlando di secoli. Amici, anche per oggi abbiamo concluso il nostro percorso, il nostro contenuto, credo che sia molto interessante capire come si fa a creare un token anche per proteggersi al meglio. Quindi tutte le volte che interagite con degli smart contract, ora avete degli elementi in più, avete delle nozioni in più per andare a capire che cosa fa questo smart contract, quali sono le funzioni che usa e tutto quanto, tutto quello che abbiamo visto all'interno di questo contenuto. Avete anche visto quanto è semplice creare uno smart contract, quindi quanto è semplice con pochi euro, pochi centesimi e potenzialmente creare un sistema di grandissimo scam. Quindi ancora più attenzione, lo ripeto, ancora più attenzione alla Binance Chain, perché avendo dei costi veramente bassi, chiaramente è il posto più probabile dove trovare eventuali token scam. Quindi state molto accorti, come sempre, venite dentro Cryptolub, richiedete il vostro airdrop. Noi, come sempre, ci vediamo un prossimo contenuto. Qualsiasi domanda voi abbiate, come sempre, la fate qui sotto nei commenti, mi fa un sacco di piacere rispondere. Io vi ringrazio e noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.